Da che paese vieni? Io vengo dall'Italia. E tu da dove vieni? Io vengo dalla Corea del Sud. Com'è l'Italia? L'Italia è tre volte più grande della Corea del Sud. L'Italia è molto grande. Sì, l'Italia è un paese grande. Ci sono molte montagne come le Alpi. Anche in Corea ci sono molte montagne. Ci sono molte montagne anche a Seoul. A Roma non ci sono molte montagne. Ci sono molti fiumi come il Tevere. Il fiume Han scorre attraverso Seoul. L'Italia è circondata da parecchi mari. Il mare adriatico, il mare mediterraneo e il mare Tireno. Anche la Corea è circondata da molti mari. Il mare giallo, il mare del sud e il mare orientale. L'Italia è circondata da parecchi. L'Italia è circondata da parecchi. L'Italia è circondata da parecchi. L'Italia è circondata da parecchi.